Due mozioni di sfiducia dal mero sapore politico più che giuridico e amministrativo sono state promosse a Gela contro il sindaco Domenico Messinese, ex Movimento 5 Stelle, e contro il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascia, del Partito Democratico, finiti nel milino dei consiglieri contestatori che, da fronti opposti, chiedono le loro dimissioni per scarso rendimento. La prima iniziativa è stata avviata alcuni giorni addietro dai grillini che sollecitano l'allontanamento del sindaco espulso dal Movimento sei mesi dopo la sua elezione per non avere ridotto la propria indennità di carica e per non avere revocato l'adesione del Comune al protocollo d'intesa sulla riconversione green della raffineria Eni. I pentastellati non si rivolgono solo ai consiglieri comunali. Hanno avviato una petizione popolare chiedendo la firma dei cittadini che sempre più numerosi assediano municipio ed aula consigliare per rivendicare la soluzione di vari problemi con in testa il lavoro. Ai firmatari si è aggiunta a sorpresa Alessandra Ascia al culmine di un lungo conflitto con il sindaco. Ascia, in una sua nota, spiega il proprio gesto accusando Messinese e l'aggiunta di disertare i lavori consigliari che spesso vengono sospesi per mancanza dei chiarimenti e dei supporti tecnici dell'esecutivo necessari ai consiglieri per deliberare. Il presidente della sede civica sottolinea che dopo un anno e mezzo di tentativi di mediazione nei confronti della giunta di lettere di invito a partecipare alle sedute del consiglio comunale per rendere possibile l'escursione dei punti all'ordine del giorno o ai quesiti posti dei consiglieri ha posto la firma sulla mozione di sfiducia intendendo rappresentare l'intero consiglio. Per non parlare, ha aggiunto, di tutti gli incontri domani nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'ufficio di Presidenza non è mai stato invitato a partecipare. Il sindaco, dice Ascia, deve capire realmente che deve cercare aiuto e collaborazione da tutti altrimenti quasi sicuramente entro giugno 2018 sarà lui ad andare a casa. Ma anche Alessandra Ascia a sua volta deve fare conti con una mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti da quattro consiglieri indipendenti ritenuti vicini a Messinese. Sindaco e Consiglio Comunale eletti tra maggio e giugno del 2015 si avvicinano al secondo anno di attività del loro mandato quinquennale.